L'italiano in tv, un modo nuovo e divertente per imparare l'italiano. Ciao a tutti e benvenuti all'italiano in tv di Oioke in Italy. Oggi impareremo l'italiano partendo dalla scena di un divertentissimo vecchio film della comicità italiana, Totò, Peppino e la mala femmina. Totò e Peppino interpretano in questo film due fratelli che vivono insieme alla sorella vedova, Lucia. Quando il figlio di quest'ultima si innamora di una ballerina di avanspettacolo, i due zii tenteranno in ogni modo di togliere la poco di buono dalla testa dell'amato nipote e lo seguiranno fino a Milano e proprio a Milano è girata la scena da cui impareremo tantissime cose nuove sulla lingua italiana. Ma per prima cosa, come al solito, non dimenticatevi, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e di scaricare il pdf gratuito di questa lezione. Ciao a tutti, alla prossima e buon divertimento! Ricordati il nostro modo di lavorare. Per prima, guarderai per prima cosa, guarderai la scena con i sottotitoli. Fai attenzione alle parole chiave che sono quelle sottolineate in blu. Imparerai dalla scena, in un secondo momento, queste parole sottolineate, tutte le espressioni, cosa significano e che cosa è importante fare attenzione. Infine, ti metterai alla prova con un piccolo quiz. Ma ora, guardiamo la scena! Bello, eh? Che sarà, il municipio? Come municipio? Il municipio, fai tu che dici? Questa deve essere la scala di Milano. E dove sta? La che? La scala. Eh, starà dentro, no? Ah, è bello, sembra vero. Come sembra vero, è vero, questo è uno stile etrusco. È un mezzovale, un mezzovale. Mezzovale. E vedi, ci credi, questo paese è così grande che io non mi raccapezzo. Ma come si fa? Che si fa? Bisognerebbe trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Floriana. Dove andiamo a quel militare là? A quello? Ma che stai pazzo? Quello deve essere un generale austrico, non lo vedi? Eh, va bene, siamo alleati. Siamo alleati, già è bene, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Vieni. E scusi, 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 lei è di qua? Dica. È di qua? Sì, sono di qua perché, ma c'ho qua per un tedesco. Ah, è tedesco? Tra l'altro è tigaro, è tedesco. E allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico, prigioniero in Germania. Non mi interrompere, se no perdo il filo. Dunque, scusi, mi. Se che? Bittichin. Noio. Se che? Ha capito? Ha detto. Dopo ti spiego. Noio, voleva, 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 savoa. Noio voleva savoa, l'iteris. Ja. Ja. Eh, ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Ah, complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate. Dunque. Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano qua. Punto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare. Andare. Sa, è una semplice informazione. Sentite. Sì, sì, signore. Se volete andare al manicomio, vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana? Non ha capito una parola. Sai che facciamo? Questa è la piazza principale. Sediamoci qui, quella qua passa. Ma che se ne passa? Si crede che è un paese. Questa è una grande città. E allora come facciamo? Vieni con me, ci penso io. Vieni con me. E qua, che è quello? E quello sarà un arco di dito. Non è pericoloso. Ora impariamo dalla scena tante cose nuove. È bello questa cosa, eh? Che sarà? Io sono buona. Io sono bello e ballo bene. Buono è un aggettivo che si usa per indicare le qualità positive, la bontà, di un cibo, riferendosi al gusto, di una persona, riferendosi alle sue qualità, o di un oggetto. Bello è un aggettivo che si usa per indicare le qualità estetiche di una persona, di un oggetto, ma anche di un luogo. Serve per apprezzarne l'apparenza, l'immagine. Bravo è un aggettivo che significa abile, esperto, capace nella propria arte o professione. Si riferisce in generale a chi riesce bene in qualcosa. Riferendosi a persone o animali ne indica le doti positive, morali e dell'animo. Bene, invece, è un avverbio, di modo, che va usato quindi in diretta relazione con un verbo. Indica il modo positivo col quale viene fatta una cosa. Significa buono, retto, giusto, soddisfacente, fare una cosa bene. Bene. In lingua italiana, per esprimere un dubbio, una mancanza di certezza, anche su un evento presente o passato, posso usare il modo futuro. Bello questo palazzo, sarà il municipio? Usando il presente posso usare la parola forse. Bello questo palazzo, forse è il municipio. Hanno bussato la porta, sarà il postino? Che ore saranno? Mi sa che si è fatto tardi. Per esprimere supposizioni o incertezze su azioni avvenute nel passato, si usa il futuro anteriore. Futuro semplice degli ausiliari essere e avere, più il participio passato del verbo. Non trovo la patente, l'avrò lasciata sul tavolo in sala da pranzo? Raccapezzarsi significa orientarsi, orizzontarsi, anche in senso figurato. Di solito si specifica il luogo o la situazione. È una città troppo grande, non mi raccapezzo. Non mi raccapezzo con tutte queste novità. I signori per trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Floriana. Dove andiamo a quel militare là? A quello. Ma che sei pazzo? Quello deve essere un generale austrigo, non lo vedi? Eh va bene, siamo alleati. I pronomi diretti servono per sostituire un complemento diretto, ossia quel complemento che risponde alla domanda chi, che cosa. Sostituiscono cose, persone e animali. E sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Hai comprato il vino? Sì, l'ho comprato. Hai incontrato Luisa? No, non la vedo da settimane. Chi chiama Luca e Mario? Li chiamo io. Dove compri i libri per l'esame? Li compro alla Feltrinelli. Chi ci porta in centro? Vi portiamo noi. Lo e la, quando precedono parole inizianti per vocale o H, possono venire apostrofati. Li e le non vanno mai apostrofati. Vuole un caffè? No, grazie, l'ho appena bevuto. Quando al verbo segue un altro verbo all'infinito, il pronome diretto può andare prima del verbo e incorporarsi all'infinito stesso. La posso chiamare domani? Posso chiamarla domani? E sapevi che l'ho può sostituire un'intera frase? No, non lo sapevo. I pronomi diretti lo, la, li e le, se si trovano prima di un tempo composto, ad esempio il passato prossimo, il futuro anteriore, beh, in questo caso la finale del participio deve concordare col pronome stesso. Hai comprato il libro? Sì, l'ho comprato. Hai comprato la casa? Sì, la ho comprata. Hai mangiato i panini? Sì, li ho mangiati. Hai pagato le bollette? Sì, le ho pagate. Ma che sei pazzo? Quello deve essere un gerrano austrico, non lo vedi? Eh, va bene, siamo alleati. Siamo alleati? Eh, già è bene, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Già, nel video ha valore di assenso e affermazione. Significa è vero, appunto, sì, infatti. Infatti, esprime un'accettazione sincera o ironica. Il già ripetuto due volte, invece, significa rassegnazione. Marco ha lasciato la moglie. Già, che peccato. Non fare fallo su Luca, è nella nostra squadra. Ah, già, dimenticavo. Io ti avrei telefonato, ma non mi hai dato il tuo numero. Eh, già, hai perso il lavoro. Già, già. Parteciperai anche tu a quel noiosissimo convegno? Già. Mi regali la macchina per il mio compleanno? Già. Come no? Altri significati. Qualche tempo fa, Luca è già andato via. Da tempo. Nevicava già da giorni. Stupore o meraviglia? Hai già finito i compiti? Fino ad ora o da adesso lo so già come andrà a finire. Ormai è già passato un mese. Prima l'ho già sentito dire. Ricordatevi, tutti i significati. Ma ciapà è una parola del dialetto milanese. Ciapà significa prendere e deriva dal celtico hapà. Ciapà su. Tò, prendi su. Va ciapairat. Vai a quel paese. Il dialetto milanese di derivazione è latina e di conformazione celtica e indoeuropea. Forse non sapevi che ci sono più vocali nel dialetto milanese che nella lingua italiana e che mentre in lingua italiana la maggior parte delle parole termina per vocale, in milanese sono moltissime le terminazioni per consonante. Qualche parola da sapere. Tel chi? Ecco qui. Tieni qui. Vada viei ciap. Questa non ve l'ho scritta. Provate a indovinarla e scrivetemela nei commenti. Tusa, ragazza. Sciura, la signora. Contorno revolenziale. Cadrega. La vediamo fra poco. Bauscia. Uno spaccone, un sottutto io. Sghei, soldi. Pirla, lo sciocco. Va da fuori i pe, vai fuori dai piedi. Allura. Allora. L'inganno della Cadrega. Gino e Michele, nel film che vedremo, piccolo filmato, sono osti di una locanda milanese e sospettano che il viandante Dracula possa essere un terun, quindi un uomo del sud, per il suo accento e aspetto fisico. Decidono quindi di fargli l'inganno della Cadrega, vedete, per sapere se è veramente di origine milanesi. La vittima dell'inganno viene quindi portata davanti ad una tavola imbandita e gli viene offerta una Cadrega. Gino e Michele sperano quindi di smascherarne le origini meridionali, perché per i parallanti settentrionali il termine è chiaro, cristallino, mentre per gli altri abitanti della penisola l'inganno funziona. E infatti anche con Dracula funziona, che non lo sa. Il conte Dracula si è presentato col nome Barambilla Fumagalli, che sono tipici cognomi milanesi. Ma questo non convince Gino e Michele, ai cui il tipo non piace molto. E così ecco l'inganno della Cadrega. Dracula viene invitato a prendere una Cadrega. Cosa sarà mai una Cadrega? Un vero milanese lo sa di sicuro. La Cadrega è la sedia. Infatti, Mela in milanese si dice POM. Lo sapevate? Perdere il filo significa distrarsi, disorientarsi, perdere la conseguenzialità di un pensiero o di un discorso. Dimenticarsi quello che si stava dicendo o si voleva dire a causa, ad esempio, di una distrazione. Smarrire la logica di un discorso. Savoare. Noi volevamo Savoare l'Italiano. Ja. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate. Dunque... Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano qua. Appunto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare, dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Andare. Sa, è una semplice informazione. Congiuntivo, amore mio! Il congiuntivo nelle forme impersonali, come ad esempio bisogna che, occorre che, vale la pena che, è necessario che, è facile che, è probabile che, è ora che, può darsi che... E così via. Come nel nostro video, il congiuntivo va utilizzato, tra l'altro, anche con verbi e espressioni impersonali, nei casi in cui, però, è chiaro il soggetto della frase dipendente. Con le espressioni essere, più aggettivo, avverbio, come è giusto, è bene, è male, è facile che, con espressioni formate da essere, più articolo e nome, è un male che, è un peccato che. Bisogna che Giorgio si concentri di più mentre studia. Non si usa mai il congiuntivo quando il soggetto del verbo nella frase principale e quello della frase subordinata è lo stesso. Se il verbo della frase principale, però, è un verbo impersonale, questo chiaramente non vale. Credo che Piero abbia ragione. Credo di avere ragione. Sono felice che abbiate ritrovato il portafoglio. Sono felice che ho ritrovato il portafoglio. Ma, bisogna che Luca sia più sincero. Bisogna che io sia più sincero. Come dobbiamo andare? Andare. È una semplice informazione. Sentite. Sì, sì. Se volete andare al manicomio, vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana? Ma quanto è bella la Val Brembana. Eh sì, a vedere dalle foto e da questo video. Infatti è un posto veramente stupendo. Anche se pochi la conoscono, la Val Brembana si trova in provincia di Bergamo e deve il suo nome al fiume Brembo dal quale è attraversata. Un paesaggio naturale, ricco e caratterizzato dalla presenza costante di questo fiume. Amata da escursionisti e turisti che l'apprezzano per l'ampia offerta di opportunità per praticare sport all'aria aperta in tutte le stagioni. Ci sono paesaggi impervi e rocciosi che si alternano a territori più aperti e conche verdeggianti. Ma ci sono anche moltissimi suggestivi borghi storici da poter visitare. Andateci! Antonio De Curtis in arte Totò. Totò è lo pseudonimo di Antonio Grifo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno, porfiro genito Gagliardi De Curtis Pisanzio, attore napoletano simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato il principe della risata e considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Immortale attore e compositore di canzoni e testi poetici. Totò, un mito senza tempo, perché signori si nasce e Dio, modestamente, lo nacqui. Io so a memoria la miseria, e la miseria è il copione della vera comicità. Non si può far ridere se non si conoscono bene il dolore e la fame, il freddo, l'amore senza speranza, la disperazione della solitudine, di certe squalli dei cameretti ammobiliate, alla fine di una recita in un teatruncolo di provincia, e la vergogna dei pantaloni sfondati, il desiderio di un caffè latte, la prepotenza esuosa degli impresari, la cattiveria del pubblico senza educazione. Insomma, non si può essere un vero attore comico senza aver fatto la guerra con la vita. Grande Totò, veramente un grande. Ragazzi, ora passiamo al nostro piccolo quiz. Tre domande. La prima. Scegli la frase corretta. Questo vino è molto bene. Questo vino è molto buono. Questo vino è molto bello. Pensateci. La frase corretta è la B. Questo vino è molto buono. La seconda. Qual è corretta? Adoro i dolci e li mangio spesso? Adoro i dolci e lo mangio spesso? O adoro i dolci e mangioli spesso? Vedo qualche secondo per pensare. La frase corretta è Adoro i dolci e li mangio spesso. Ora attenti alla frase numero tre perché dovete scegliere quella sbagliata. È facile che Luca arrivi in ritardo. Bisogna che Lia mangia meno dolci. Si dice che Luca venga bocciato. Pensateci qual è quella sbagliata? Non la giusta. La sbagliata dovete trovare. La frase sbagliata è la B. Bisogna che Lia mangia meno dolci. Perché ci voleva il congiuntivo come abbiamo visto nel nostro video. Siete stati bravi? Sì. Avete guardato tutto il video e imparato tante cose nuove. Siete stati bravissimi. Non solo bravi. Ora non vi resta che iscrivervi al canale per non perdere tutti i nostri prossimi video. Insomma, lezioni divertenti per imparare l'italiano insieme. Iscriviti e resta con noi. A noi fa un gran piacere. Ciao. Alla prossima.